Hai bisogno di crediti? Vai su VIPCoinsFIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovi Spod e lo staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nello Squad Builder Italiano per poter disputare il torneo denominato Gli Azzurri. In cosa consiste questo torneo? Ci sono delle condizioni, ovvero dovete avere 18 giocatori italiani, ovvero 11 giocatori italiani titolari e 7 panchinari. Il modulo che ho scelto per questa squadra, per la squadra italiana, è il 3-5-2, modulo abbastanza completo a centrocampo, che deve per ovvio di cose avere 3 difensori veloci. Dunque ragazzi, questo torneo terminerà il 27 aprile ed è attualmente in corso. In porta abbiamo Sirigu, fortissimo Sirigu, è davvero uno tra i più forti, se non i più forti portieri italiani attualmente in circolazione, almeno in game, e a parer mio anche nella realtà. Il primo difensore centrale che metto al centro, perché centralmente vanno messi quelli più lenti, diciamo tra virgolette, è Angelo Ogbon, che nonostante tutto è abbastanza veloce, è anche un'ottima difesa e un buon fisico. A destra potete scegliere tra Chiellini o Barzali. Chiellini, essendo mancino, per molti dovrebbe giocare a destra, e io dunque lo metto a destra. Di Chiellini che si può dire? Tutti lo conoscete, 87 di difesa, 86 di fisico ragazzi, work race giusto per un difensore, con un'ottima velocità, per un difensore centrale, uno dei più forti a parer mio, almeno in foot. Altro difensore centrale, sempre italiano, l'ultimo della triade, Andrea Barzali. Anche lui, ottima difesa, buon fisico e buona velocità, con un work race basso alto. Quindi abbiamo un trio difensivo molto portato a difendere che attaccare quello che ci occorre in questo modulo, perché con la mancanza di terzini, i difensori devono stare molto, molto in difesa, devono essere specialmente quelli esterni, veloci. Il primo cdc è De Rossi, ovviamente, non possiamo escludere De Rossi dalla nostra formazione, work race giusto, velocità buona, tutto di De Rossi è buono, ha un ottimo fisico e una buona difesa, ed è quello che occorre per un centrocampista difensivo centrale. Il suo compagno di reparto, Tiago Motta del Paris, anche lui, ottimo fisico e buona difesa, un po' lentino, almeno sulla carta, però in game con il supporto di De Rossi è tutta altra cosa. L'esterno sinistro, che sulla carta è un'ala sinistra, è Stefan El Sharawi, l'unico, a parer mio, esterno decente. Oltre a Buonaventura, che ho messo qui in banchina, potrete sostituirlo tranquillamente, però io vi consiglio più El Sharawi, perché ha ottima velocità, buon tiro e ottimo dribbling. Poi con quattro stelle, piede debole, quattro stelle e skill. Secondo me è il miglior esterno della Serie A. Come esterno destro, non è proprio un esterno destro, è anche egli un'ala destra. Mettiamo Candreva, obbligatorio, perché non ci sono tantissimi esterni alle destre forti italiane in questo gioco. Candreva, forte, con un tiro veramente potente, ottimi passaggi, ottimo dribbling, buona velocità, con un buon fisico, lo rendono un esterno veramente molto buono. Il C.O.C. potrei scegliere tra Pirlo o Marchiso. Io invece ho optato per Marchiso. Perché? Allora, principalmente perché il centrocampo, a parer mio, con Motta e De Rossi, non è proprio veloce. Quindi con Marchiso, che ha un walk rates alto alto, va ad aiutare quando Motta, ad esempio, non può andare sul giocatore, perché va in velocità. Invece Marchiso andrà a recuperare un po' di buchi di Motta, perché sicuramente Motta, per colpa della sua velocità, creerà dei buchi al centrocampo. E allora ci penserà Marchiso a coprire questi buchi, grazie alla sua buona velocità. Il primo attaccante che voglio mettere nella mia formazione è Ciro, perché è fortissimo, ha un tiro davvero potente, davvero eccezionale. Un fisico altrettanto. Ha 80 di tiro sulla carta, con 78 di fisico, 78 di velocità. Peccato le tre stelle skill, che lo penalizzano un po' nel suo dribbling, che è 76 sulla carta. Il suo compagno di reparto è un baggato, un baggatone assoluto, e si chiama Sebastian Jovinco. Ho scelto lui e non Balotelli, perché voglio dare velocità all'attacco. Se abbiamo uno fisico, abbiamo uno veloce. Al posto di Immobile potrete mettere anche Balotelli, e al posto di Jovinco potete mettere anche Sau, ad esempio. Oppure potrete fare il bug assoluto, mettere Sau e Jovinco in attacco, ragazzi, con questi due, secondo me, macellate tutte le difese avversari. Dunque ragazzi, lo squad builder italiano termina qui. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Se volete vedere altri squad builder per i prossimi tornei, non dimenticate di mettere un mi piace. Non dimenticate il commentino qui sotto. Dunque ragazzi, qui è Giovi Spò, vi saluta e vi ringrazia. Ciao! 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 Ciao!